Mi chiamo Giovanni Cerino Badone, sono l'autore del volume Potenza di Fuoco, è un volume che tratta la nascita, l'origine della Potenza di Fuoco, quale agente di distruzione sui campi di battaglia in epoca moderna dal 1500 al XIX secolo. La tesi fondamentale di questo volume è la nascita della Potenza di Fuoco, sia dalla capacità di scagliare una massa di metallo contro un avversario allo scopo di distruggerlo o di abbattere la sua volontà di resistenza, come questa ha condizionato le tattiche e le strategie dei campi di battaglia di epoca moderna, sino alla produzione finale di un'invenzione che ha condizionato la società occidentale all'inizio del XXI secolo, che è appunto la leva obbligatoria. Potenza di Fuoco racconta tutto questo attraverso un'analisi delle dottrine tattiche del periodo, dei campi di battaglia e delle tecnologie impiegate negli scontri presi in oggetto e analisi.